Adesso vorrei finire pregando con tutti voi, in silenzio, in silenzio pregando con tutti voi. Io dirò quello che mi viene al cuore e voi in silenzio pregate con me. Signore Dio, guardaci, guarda questa città, questa isola, guarda le nostre famiglie. Signore, a te non è mancato il lavoro, hai fatto il falegname, eri felice. Signore, ci manca il lavoro, gli idoli vogliono ruvarci la dignità, i sistemi ingiusti vogliono ruvarci la speranza. Signore, non ci lasci i soldi, aiutaci a aiutarci fra noi. Che dimentichiamo un po' l'egoismo e sentiamo nel cuore il noi, noi, popolo, che vuole andare avanti. Signore Gesù, a te non manca il lavoro, dacci il lavoro e insegnaci a lottare per il lavoro. E benedici tutti noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie tante e pregate per me.